Ciao a tutti, mi chiamo Travis e oggi faremo un video su come configurare il nuovo S3 Wi-Fi ST. Per prima cosa vi mostreremo come distinguere tra il vecchio e il nuovo Data Logger. Il vecchio stile ha questo aspetto, non ha LED all'esterno, ha un'antenna e questo è l'aspetto della parte superiore, questo è il vecchio modello, il nuovo modello ha tre LED all'esterno, proprio qui. Sono i LED Power, NET e COM e c'è un pulsante di reset all'esterno, che è molto utile. L'alimentazione indica che riceve 5V dall'inverter, il COM indica la comunicazione con l'inverter e il NET indica la comunicazione con il server Solis Cloud. All'esterno è presente anche un codice QR, che è possibile scansionare con la propria app, quindi vi mostreremo come installarlo e come sincronizzarlo con il vostro router locale. La prossima cosa da fare è posizionare il Data Logger nell'inverter Solis e se guardate in basso ci sono 4 connessioni e una piccola guida. La guida impedirà di inserirlo male nell'inverter, quindi se andate sotto qualsiasi inverter Solis vedrete la porta verde, vedrete la piccola connessione verde. Dovete girare la parte superiore e poi si inserisce nell'inverter. Giratelo fino a quando non riuscite più a girarlo e senza stringerlo troppo. A questo punto si accenderà la luce rossa, che indica la presenza di 5V, e si accenderà la spia COM, che indica l'avvenuta comunicazione. In questo momento cercherà una connessione Wi-Fi. Ora lo collegheremo al router locale. Adesso andremo a collegare il router al Data Logger, quindi entreremo in Solis Cloud, Solis Cloud, altri strumenti in basso, configurazione Wi-Fi. Eseguiamo la scansione del codice QR sul Data Logger e poi premiamo Avanti. Configurazione con un clic. Inseriamo la password, che vi nascondo. Avanti e poi teniamo premuto il pulsante di Reset sul retro per 5 secondi, finché i LED COM e NET non iniziano a lampeggiare. Iniziano a lampeggiare, in questo modo. Poi confermiamo che sta lampeggiando e proseguiamo. In questo modo verrà associato alla rete. Configurato. Premere OK. A questo punto si accede a Solis Cloud e si verifica se l'impianto è online. Ok, siamo su www.soliscloud.com. Accederemo al nostro account, accetteremo l'informativa sulla privacy e faremo il login. Ora ho configurato questo S3 Wi-Fi ST. Se si desidera aggiungere un impianto, basta andare in alto a destra e creare un impianto. Faccio clic su questo impianto e aggiungo il mio dispositivo. Ovviamente non è stato aggiunto alcun data logger né alcun inverter. Quindi andiamo ad aggiungere il data logger. Inseriamo il numero di serie del data logger. Clicchiamo più e confermiamo. Ora vedremo se il dispositivo che abbiamo appena inserito è online. Ed eccolo lì. Nel giro di 5 minuti l'inverter sarà visibile e i dati inizieranno a creare la grafica. È tutto. Grazie.